Ciao a tutti, ben ritornati da vostro androling, non turno in questo nuovo video per pokémon sole Dunque, prima di continuare di affrontare comunque sia tanti altri avversari che dovrebbero essere quelli dell'albero della lotta Voglio fare un'altra cosa, ovvero andare a prendere Magierna In poche parole, dovevo prenderlo già da un bel pezzo, però mi sono dimenticato e quindi lo faccio oggi Dunque, il cavo che vedete qui sarebbe quello della Capture Card, ad ogni modo, non ci interessa Dunque, questo è il QR Code di Magierna Eccolo qua Ecco fatto, Magierna, hai letto un QR Code speciale Questi dati appartengono a un pokémon che vive nella regione di Alola I dati sono stati aggiornati e hai ricevuto un dono speciale Ricordati di ritirarlo dal postino del negozio Cimeli e rarità della zona commerciale di Hawali 20 punti in totale, perfetto A questo punto non ci resta che andare a prendere Magierna al centro commerciale Che sinceramente è la prima volta che ci vado anche perché all'inizio del gioco è bloccato E ho premuto Pokémon perché pensavo di usare Volo Ma Volo non c'è in questo gioco, non ci sono le MN Oddio, quanto mi mancano Andiamo ad Awali Non so di preciso dove si trova il centro commerciale Ma, oddio, ho una mezza idea Perché giocando a Pokémon Sole diverso tempo fa Praticamente a dicembre mi sembra Ho provato ad andarci ma non ha funzionato Ecco, dovrebbe essere questo, sì Ok, al postino di Awali Allora c'è Grandi magazzini Eh, però Dove è? Ah, questo, eh Ah, c'è male della realtà Dove è questo? Oh, ho sbagliato l'indirizzo forse Sul pacco c'era scritto Gettero Anticolato e ho pensato che andasse consegnato qui Ma, tu sei Andrea giusto È arrivato un Pokémon per te Oh, yeah, bebe Abbiamo Magierna Vediamo i suoi dati 301 Che sarebbe l'801 in realtà Sul Pokédex nazionale ufficiale È un Pokémon artificiale costruito più di 500 anni fa Capisce il linguaggio degli esseri umani Ma non è in grado di parlare Può dare un soprannome? No Eh, invia il box del PC Ora facciamo... ha un tappo d'argento Metti nella borsa, metti nella borsa Inoltre, a PC ho anche Marshadow Eh, eh Vi chiederete come ho fatto a prendere Marshadow? Eh, mo ve lo spiego Quello che appena ricevuto è un Pokémon misterioso È stato creato centinaia di anni fa Ma è un valore inestimabile Infatti hanno cercato di rubarlo Non mi stupisce O meglio Eh, nel film Maggiarna E... Volcan... No, Volcanion nella meraviglia meccanica Oh! Oh! Le... Guardala! Co... come... Maledetta Che maledetta Che lì proprio si nascondeva Zitta zitta Cacchia cacchia Nel film Praticamente Questo è Marshadow Nel film Maggiarna Eh... Fa da... Da dama di compagnia Diciamo Da amica Boh, una cosa del genere Allora, vediamo un attimo Maggiarna Poi vediamo Marshadow E vi spiego Dunque Cannonflare Che dovrebbe essere la sua mossa peculiare Colpisce il bersaglio Con un potente raggio Ma riduce di molto L'attacco speciale Di chi la usa Praticamente La mossa Folletto Tipo radical Bero Incendio Eh... Cannonà Idrocannone Non cannone Cosa stavo dicendo Idrocannone Porto un cannone Ok Eh... Le statistiche Oddio Insomma L'attacco speciale È davvero alto E... Che... Che... Audace Mamma mia Che schifo Per un Pokémon speciale Natura audace Voglio dire Aumenta l'attacco E quindi Già partiamo male Ma... Diminuisce la Velocità Care... Mi sembra Audace No quella... Sì audace E birbona Riducire la difesa Mi pare Non mi ricordo Sinceramente Di preciso Ho ottenuto Durante un evento Speciale Ad ora di menarsi Mi dispiace Per lui E va bene Quindi questo era L'evento Di... Maghiarna Ora Marshadow Lotto a spettro Marshadow Non si può ottenere Tramite Eventi Per il momento O regali Online Natura birbona Quindi insomma Però essendo Un tipo più fisico Che speciale Ci sta Marshadow Si può ottenere Solo tramite Power Saves Ecco Cacchio L'altro giorno L'ho preso Già Non mi ricordo Power Tramite Solo tramite Power Saves E in realtà Non è neanche ufficiale È un Pokémon Creato Con i numeri Ovvero Nel senso Che Io avevo 802 Pozioni In Nello zaino E Mettendo il codice Del Del Pokémon Praticamente Di trovare La Wonder Card Fake Ovviamente Si riceveva Il Pokémon Corrispondente Al numero Degli oggetti Che avevo Nella prima Posizione Nello zaino Praticamente Avevo 802 Pozioni E Mettendo il codice Della Fake Wonder Card La Wonder Card La Come si chiama In italiano Non mi ricordo Falsa Praticamente Ti prendivi Pokémon Corrispondente Al numero Del Pokédex Quindi Con 802 Pozioni Il numero 802 Al Pokédex Ufficiale Nazionale Corrisponde A Marshadow E quindi Ho preso Marshadow Comunque sia Questo era giusto Il video Più che altro Per farvi vedere Maghiarna Ma almeno Metto nel titolo Anche Marshadow Così attiro Un po' Di views Ok Questo era Il mio scopo Yeah Yeah Sì